Mi trovo a Taranto in via Carrieri, una traversa di via Alto Adige dinanzi alla struttura che ospitava fino a quest'estate più o meno gli uffici del centro per l'impiego. Come tutti sapete la struttura è stata dichiarata inagibile, credo per ragioni sanitarie, e ora i soggetti in cerca di occupazione, quindi disoccupati, inoccupati, cassi integrati e quant'altro, per adempiere ai vari obblighi imposti previsti si vedono costretti ovviamente a non presentarsi più qui a Taranto, ma ad andare a sbattere altrove Martina, Massafra, Manduria, ora non so bene, comunque al di là di questo nei comuni appunto della provincia dove ci sono i centri per l'impiego che praticamente assorbono le funzioni che venivano svolte qui. Una situazione davvero assurda perché stiamo parlando di gente che non lavora, gente che almeno uno o più volte al mese si vede costretta a dover prendere la macchina o prendere il busso o quant'altro e a proprie spese per adempiere a degli obblighi e ripeto si è costretta ad andare fuori spendendo soldi di tasca propria. Quando invece qui a Taranto c'era una struttura andando recandosi presso di essa il soggetto in cerca di occupazione non aveva costi e spese appunto aggiuntive. Questo è l'assurdo. La cosa che mi fa davvero arrabbiare è che quando si chiusse il centro per l'impiego i vari soggetti istituzionali si dissero pronti a trovare immediatamente una soluzione, a trovare un'altra struttura che ospitasse appunto gli uffici. La stessa amministrazione Melucci si mise a disposizione, sempre a parole perché Melucci sa solo fare chiacchiere, lui e gli altri della sua corte dei miracoli si impegnarono a trovare un altro immobile di proprietà comunale dove appunto allocare gli uffici. L'avete vista voi questa struttura? No e non l'ho vista manco io. Nessuno ha visto nulla. Le solite chiacchiere giusto per far calmare un po' le persone esasperate. Vedete qui in Italia e a Taranto in particolare non solo non si va incontro nei confronti del cittadino per dargli occupazione ma addirittura si mettono lacci e lacciuoli, bastoni tra le ruote che rendono la vita, che rendono l'adempimento degli obblighi ancora più gravoso, più costoso. Sì perché una persona che non lavora sinceramente andare a spendere decine di euro per carburante e quant'altro per andare appunto nei comuni della provincia per adempiere a questi obblighi è un'ulteriore umiliazione, un'ulteriore schiaffo, è un'ulteriore come dire riduzione delle possibilità economiche di queste persone. Ecco ho voluto rappresentarvi questa situazione perché molte persone in cerca di occupazione mi hanno fatto presente questo quadro penoso e come vedete le chiacchiere dell'amministrazione Melucci, come si suol dire con un'espressione un po' popolare e popolana, le chiacchiere stanno a zero.